Torna al successo il vasto Girardi che al Ditella supera 3-1 in rimonta il Real Giulianova. Alla formazione di Bitetto non riesce l'impresa di tornare in Abruzzo con i punti in tasca. I gialloblu altomolisani riprendono quota in classifica e guardano la sfida di mercoledì contro il Porto Sant'Elpidio con grande serenità. A dirigere il confronto è il signor Moretti della sezione di Como. Partono forti gli ospiti, con Pau dice che salta il diretto controllore e conclude verso la porta. Guerra è attento e deve alla conclusione dei 10 ospite. I giallorossi sono ordinati e passano in vantaggio al decimo. Cesario è il più lesto di tutti ad approfittare di una palla vagante in area di rigore e con un tocco preciso supera Guerra. Match in salita per il vasto Girardi che non si scompone. E' Capitan Ruggeri a suonare la carica. La sua incornata si spegne fuori di un soffio. E' il preludio al gol del pareggio che arriva al minuto 21. Quando Salatino prende la mira, azione il grilletto e spedisce la sfera all'angolino basso dove Amadio non può proprio arrivare. Vasto Girardi 1, Giuliano va 1. Incastato il corpo, il Real prova a reagire. Paudice va via a destra e mette al centro un pallone velenoso. La difesa di casa si salva. Prima del riposo, ancora Vasto Girardi sul pezzo con il portiere ospite Amadio che smanaccia un pallone proveniente dalla destra, anticipando Gentile che era pronto ad intervenire. Con il montaggio di Loretto Cerasuolo siamo nella ripresa. Ed è un vasto Girardi diverso rispetto a quello di inizio gara. La formazione di Prosperi parte con il turbo innestato. Al secondo, Mele va in pressione su Tipaldi. Gli ruba la sfera e da distanza siderale beffa Amadio con un pallonetto di rara bellezza e precisione. Nella circostanza il portiere giallorosso è colpevolmente fuori dai pali. Vasto Girardi 2, Giuliano va 1. Messa la freccia, la formazione di casa è brava ad amministrare. Gli ospiti fanno fatica a trovare il bandolo della matassa e si vedono solo al ventottesimo con una conclusione di massetti dalla distanza. Guerra si distende e deve in corner. Due minuti dopo arriva il trist dei padroni di casa. È il neo entrato Minchillo sotto misura a depositare il pallone in fondo al sacco. Match praticamente chiuso con il Giulianova che prova a rendere meno amaro il pomeriggio del Ditella. Prima con caso, conclusione lontano dalla porta di guerra e poi in pieno recupero con Barlafante sul quale l'estremo difensore alto molisano chiude prontamente. Il Vasto Girardi vince e riprende la corsa verso la zona nobile della classifica.